Intitolata questa mattina nella zona artigianale di Pianura, una strada a Nelson Mandela, premio Nobel per la pace e uomo simbolo del Novecento per la sua vita dedicata alla lotta contro le discriminazioni razziali. E' stato un uomo che ha combattuto per i diritti umani e lo ha fatto in prima persona e lo ha fatto effettivamente con quello spirito che lo ha contraddistinto nel senso che in quel momento particolare della vita sudafricana dove c'era l'apartheid ci sarebbe potuto essere immediatamente dopo una recrudescenza e dei momenti molto tristi per la popolazione sudafricana. Cosa che invece non è avvenuto, era una persona lungimirante, una persona che ha scritto una pagina importantissima della storia e quindi sono molto felice che oggi si possa ricordare questa personalità e questo statista nella nostra città. La scelta di titolare una strada a Mandela è nata da una proposta d'iniziativa consigliare.